Luca Rulli ancora a rete, il goleador, Luca Rulli ha accorciato le distanze, adesso assist di Riccardo del Bello, un bel gol del nostro Luca Rulli, adesso ci troviamo 2 a 1 a favore della squadra di casa, con questo gol Luca Rulli si trova a 18 reti in questo campionato, adesso si sta riscaldando franco di fresco, con questo fresco.